Lo Zodi 105 presenta Zodi 105 presenta In collaborazione con l'accampamento di San Donato Milanese L'uomo che ha passato la vita nella pulcheria Detentore di una delle giostre più in voga degli anni 90 Singano voglio vivere come te Andare dove mi pare non come me L'uomo che ha la casa con le rotelle E lui è Zlatan Il Sinto Senti i nostri doti che sa Vota Zlatan Vota Zlatan Vota Zlatan Vittoria Porno Rapparazzo Brustatuta Orologio per tutta Rolex per tutta Vota Zlatan Campagna elettorale Vota Zlatan Colamo Vota Zlatan Sì pronto? Pronto? Sì? Mio nome è Ades Zlatanorei Mi senta? Chi è Mario? Non ho capito Chi è Mario? Scusa Pronto? Sì chi è? Ancora Sì due volte che ci dico Ades Zlatanorei Mio nome Se lo fai bene Ma che faccio bene Non ho capito Chi sei? E tre Io nome è Zlatanorei Non mi sento Non continui a parlare Ok 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 Ho capito Zlatan Eh ma Dimmi Blanchi sei Allora Ti spiego Praticamente No? In questo periodo Di votazione De 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 Melano No? Del sindaco Ok Tu quando vai a votare Che voti adesso? Io voto per te Bravo Ti ho capito subito No? Bravo Ma tu cosa fai Voti per me? Perché se tu voti per me No? Allora Innanzitutto Noi Noi abbiamo De posto di lavoro Anche per i bambini Quindi ogni bambino Ha semaforo Ok? Ok Ma facciamo la mezza dopo Ovvio Abbiamo De Prostituzione No? Sì Per tutta Capito? Scontata Tutte de belle Franchisse rumene Che te vengono Che fanno De boccaciccio Capito? Buono Buono Tutte de melano No? Tipo de C'è C'è De invio De rolex De rolex Da ogni persona Capito? Dipende che modelli So Non voglio quelli Proprio terra terra No io tutto GMT Master O Dexplorer Tutto Non è problema Capito? Ok Per preoccupare tutto Tu Tu non preoccupa Ci penso io Tu De vota Grazie Quando entri Nel Cazupola De votazione Tu dove fai De X? Su Slata Bravo Ti ho capito subito Bravo Forseggio Per avere Per avere melano Per avere melano pulito Ma quale pulita? Melano sporca Tutto zengare Tutte randagio vogliamo Capito? No pulita Che cazzo De melano pulita? Eh vediamo All'inizio diciamo Che è pulita Se no i voti Ma i voti arrivano Perché tu non vuoi Andare da mignota? Se riesci a metterla Sotto casa Sì Te la metto pure Sotto casa Tu che devi abiti Dimmi che li ha Via Manzoni Via Manzoni? Sì vicino da te lì Dove c'è del teatro? Subito dopo Ma quindi tu Ha pieno di soldi Bravo Possiamo pure le decce Io ti metto pure Uno, due, tre voti Quanti ne vuoi? Eh ne vuole un po' No davi di indirizzo Che vengono Te faccio di casa Già che ci sono Capito? No Pronto? Pronto Pessenta? Sì chi parla? Salve Il mio nome è Zlatanorei no? Chi cerca scusi? No mi hanno detto Che tu hai Come ti chiamo Pistantino? Sì Allora Mi hanno detto Che tu puoi Aiuto a me no? Allora io Praticamente Mi ho decandato Amministrativa De Milano no? Sì De Zlatanorei no? Sì E io cosa c'entro? No mi ha detto Che tu puoi Aiuto a me Con Etica no? Eh no L'hanno detto male Perché? Chi è che gliel'ha detto Chi è che te l'ha detto? Me l'ha detto De Antonello Oh Antonello No guardi L'hanno dato L'hanno fatto Uno scherzo L'hanno fatto a me L'hanno dato Un numero sbagliato Vabbè comunque Tu sei de Milano Giusto? Sì Milano Tu sei de Milano? Sì Perché se no Noi ci arrabbiamo Capito? Ho capito Quindi tu Metta dei X Su Zlatanorei Praticamente De simbolo E de colzellata No? Capito che simbolo è? La colzellata Il simbolo della colzellata Sì Sulla lista La lista per Milano Con la colzellata Sì Zlatan Ora hai scritto Perfetto Me lo segno Ok L'hai segnala no? Perché comunque Anche se chiede Per una melata Per una melana Un po' più vevedola no? Tu vedi il giro De notte De verte No? Facciamo fino alle 6 Da mattina De locale Poi comunque Mettiamo del lavoro Del bambino anche No 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 Noi poi tipo De regaliamo Se de riusciamo Che ancora dobbiamo De vedere Quante tipo De persone Voteranno No 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 Tutti quelli Che votano De me No Io ci mando De rolex A casa Capito? Dai ci manda? De rolex Ma? Ah è rolex De orologio No? Ah certo De orologio De orologio Buena sapersi De orologio De mandano a casa Capito Quindi se tu hai De De amico Che vuole De vota No Tu dici a me Così Io da porto De rolex Ho capito Vabbè, lo dirò a mio amico allora Quindi cosa deve votare? Slatano Rei col simparro, il simbolo con la coltellata Perfetta Giusto? Giusto, mi raccomando, non è vota decimietta Morata, capito? Ci mancherebbe, guarda Che già derogato Melano, no? Ci mancherebbe, ottima campagna elettorale comunque Grazie, ciao Ciao, ciao, ciao Beh, in un certo senso assomiglia un po' comunque la campagna elettorale vecchia Sempre di quella là Sì, il problema è che molti, piuttosto che andare a votare Si darebbero veramente una coltellata No, più che altro è pieno di zocco l'individuo L'Occano di 150 si ferma E ti ricorda che tra poco in diretta con noi ci sarà Benelo Pellastro A chi è? A chi è? A chi è?